Il rinvio della decisione del Tribunale di Roma sull'istanza presentata da Davide Ciaccia allunga i tempi di un eventuale passaggio di consegne in casa Teramo. Nessuna novità a stretto giro dunque, mentre per dopodomani è attesa la pronuncia della Covizoc sulla domanda di iscrizione presentata una settimana fa. Il percorso accidentato non registra novità di rilievo, posto che in ogni caso dovrà passare dal vaglio federale, prima di poter ipotizzare sviluppi possibili. Chiaro che in questo momento parlare di strategie di mercato o comunque di situazioni legate al campo è assolutamente improbabile finché non si registreranno chiarimenti sulla possibilità o meno per il diavolo di partecipare alla prossima Lega Pro. Domani intanto scadranno molti dei contratti in essere, ma non è questo il frangente in cui ci si possa attardare in disquisizioni tecniche. Quello che appare certo è che il Teramo deve avere un piano B, una via d'uscita, una strada di riserva per poter pensare di darsi un domani, anche considerando che il ripianamento, qualora dovesse arrivare un'improbabile iscrizione in deroga, sarebbe comunque obbligato. E questo costringerebbe i soci, che proprio dopo domani si riuniscono in assemblea nel primo pomeriggio, a introdurre liquidità nelle casse sociali. Le sponsorizzazioni last minute non sono bastate e non saranno comunque sufficienti per coprire quanto manca. Ed è assolutamente prioritario disegnare oggi le strategie dei prossimi giorni per evitare di farsi trovare impreparati. Che il Teramo in caso di stop proverà la via dei ricorsi appare probabile, che riuscirà nell'intento, invece è tutto da verificare. Sono ore strane, un misto tra attesa e contatti frequenti, con Giuseppe Spinelli che rimane alla finestra e una tifoseria che cerca di farsi un'idea di cosa accadrà. Per questo i vecchi diavoli Curva Est hanno voluto far sentire la loro voce con un comunicato nel quale stigmatizzano, si legge, squallide farse impersonate da ignobili comparse, senza che sia mai tutelato Teramo ed il Teramo. Tutti, continua la nota, si stanno defilando, trincerandosi dietro improbabili scusanti. Nessuno ha dato certezze, affidandosi a laconici e retoriche dichiarazioni prive di sostanza che lasciano gli ultrasedi tifosi nell'oblio. Siamo stufi, stanchi e schifati da tutti, anche dalla politica non pervenuta. Poi, questa è la conclusione dedicata alla questione stadio, definito mezzo di subdolo scambio e ricatto utilizzato per fini di lucro privati con l'avallo colpevole del comune.